Siamo con Maria Chiara Norgini, questa sera un'altra vittoria qui al Palagiorge e anche una tua presenza in campo a dare supporto alle tue compagne. Sì, è stata una partita sicuramente da non sottovalutare perché comunque ogni partita è a sé, quindi a prescindere dalla classifica e da come stanno giocando è importante sempre far bene, quindi il secondo set infatti è stato tirato perché comunque appena accale un po' l'attenzione è normale che l'altra squadra giochi e per quanto riguarda me sono contenta e bisogna continuare così tutte, compresa io, lavorando e facendo sempre bene. Un secondo set dove Perugia vi ha portato fino ai vantaggi e siete riusciti appunto con un ultimo punto di Francesca Villani a chiudere anche il secondo set. Adesso si prospetta appunto la parte finale di questa regular season e quindi ogni punto, ogni punticino è sicuramente fondamentale per voi per arrivare appunto all'apice della passiva. Assolutamente, come dice Mazzo, bisogna vincerle tutte, per non sbagliare, 3-0 tutte quante, no, comunque sicuramente adesso è il momento più importante del campionato perché arrivate così vicine noi tre in classifica, le prime tre, è come sbaglio una cosa normale che l'altra ne va di, insomma, la prende in un modo migliore, quindi adesso vediamo, si pensa partita per partita e ce la giochiamo fino alla fine. Tra l'altro le sorprese di questo campionato sono sempre alle porte, vedi la settimana scorsa appunto la capolista che ha perso a Marsala. Esatto, sì, appunto dico non bisogna sottovalutare niente perché siamo tutti giocatrici, quindi insomma ogni partita è a sé e noi bisogna cercare sempre di fare il nostro, starle attaccate con la testa che non è sempre facile e ci proveremo assolutamente, quindi speriamo bene. Bene, in bocca al lupo e complimenti per questa sera. E grazie, ciao ciao.